Bella a tutti ragazzi, abituati in questo video, oggi siamo qui su Fornite e oggi siamo qui per parlare di una notizia che sta facendo parlare molto di sé Prima di iniziare iscrivetevi al canale, trovate la campanella, c'è un bel mi piace, condividetevi con i nostri amici e ora iniziamo Ah ragazzi, come avete letto dal titolo, oggi parliamo del capitolo 3 Ma perché parliamo del capitolo 3? Quando a breve finirà questo capitolo 5 e arriverà la season G e arriverà il capitolo 6 Perché ragazzi, calma, 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 calma Intanto qualche giorno fa è uscito un video proprio a proposito della season G e del capitolo 6 Quindi mi raccomando andatelo a recuperare Ma oggi parliamo sia di un leak ma sia di una teoria sul capitolo 3 Con l'ultimo aggiornamento, ovvero quello dove hanno introdotto il Fortniteverse In mappa, ma anche nei file di gioco sono successe due robette Una in mappa, nel deserto, vicino a... non mi ricordo l'altra vicino a che città è Però comunque nel deserto si trova la testa dell'orso, quella di Tana Strana Ve la ricordate la città del capitolo 3? Quella testa poi l'abbiamo ritrovata anche in una parte in basso a destra della mappa del capitolo 4 E adesso è spawnata lì questa testa che quindi è di una città del capitolo 3 Quindi, già questa cosa, perché? Cioè, non... perché motivo è spawnata lì con la testa di una roba del capitolo 3 lì? Non si sa Poi, altra cosa Nei file di gioco sono stati riaggiunti i file inerenti alla mappa del capitolo 3 Sono stati anche aggiornati gli effetti, i file audio di dell'Araldo Sempre del capitolo 3 E ragazzi, è un po' strana come cosa Siccome ci stiamo avvicinando alla season oggi del capitolo 2 Ora, ci sono due opzioni Ve le dico entrambe Allora, non penso che abbiano sbagliato Perché non credo Cioè, se fanno una roba del genere è perché devono farla Potrebbe semplicemente essere che gli servano degli asset di qualche città Di qualche pezzo di mappa Per il capitolo 6, per le season del capitolo 6 Potrebbe essere Cioè, non è una roba sbagliata L'hanno sempre fatto Non è una roba sbagliata Quindi potrebbe essere questo Però da questa parte allora non capirei molto La roba di aggiornare i file audio dell'Araldo Perché? Che ti servono qui gli asset lì? Quelle robe lì? Non lo so Però Oltre a questo L'altra opzione potrebbe essere Che stiano già Lavorando alla season oggi del capitolo 3 Perché molti Stanno già Pensando A questo immaginario Ovvero L'abbiamo avuto l'anno scorso a novembre La season oggi del capitolo 1 Quest'anno a novembre la season oggi del capitolo 2 Secondo molti Avremo la season oggi del capitolo 3 E avremo anche quella del capitolo 4 Quindi 2025 2026 Fino a che poi Si prenderanno una pausa Con questa roba della season oggi Aspetteranno un po' Perché sennò sono troppo recenti E' uscita questa storia qua Ora Secondo me Allora Quella del capitolo 4 Non la faranno La season oggi Se la faranno La faranno tra tanto tanto tempo Non nel 2026 Anche se tra un po' di tempo Ma non penso Il capitolo 3 Raga E' stato tagliato a metà Ci sarebbero le basi Per farci una season oggi Però Allora E' un po' strana la cosa Perché la season oggi del capitolo 1 E' nata come Cioè perlomeno Quello che ci Ci trasmetteva a noi Era che è nata Perché raga Venivamo da un anno e mezzo Di disastri Di disastri Su Fortnite Dovevamo recuperare un po' E quindi Far la season oggi Era l'unica opzione Però adesso Se facciamo season oggi 2 Season oggi 3 4 5 Allora c'è qualche problema Forse Quindi sinceramente Non ne ho idea A me non dispiacerebbe Aver la season oggi Sia del capitolo 3 Che del capitolo 4 Ve lo dico Cioè non mi dispiacerebbe Per nulla Anzi Soprattutto perché le season oggi Le fanno sempre belle Cioè perlomeno La scorsa è stata molto Accesa Colori accesi Che ti buttavano Le cose giuste dentro Le skin remake Quindi le migliori skin Te le facevano remixate È figa la season oggi In sé Durava anche solo un mese Ti vedi un po' tutto Passare davanti Per un mese E torna a quei tempi Non è male Ok Non è per niente male Anzi Io Spererei anche In una season oggi Del capitolo 3 E del capitolo 4 Però comunque Le avremo tra Uno o due anni Se ci saranno Non ne ho idea Comunque Se ci saranno Secondo voi Nei commenti Fatemi sapere Ovviamente Ci saranno Cioè questi file Sono stati aggiunti Per la season oggi Del capitolo 3 Oppure Per qualcos'altro Perché adesso Vi dico la mia Cioè non la mia Una teoria Che circola Ok Che però A me intriga un po' E quindi ve la voglio spiegare Allora qua Dovete ascoltare molto bene Per capire molto molto bene Dovete ascoltare benissimo Allora Avete presente Prendete da parte La mappa Proprio la mappa intera Del capitolo 1 E la mappa del capitolo 2 Ok Le avete in mente Quelle due mappe Lasciatele lì Dopo il capitolo 2 È arrivato il capitolo 3 Che era un remake Del capitolo 1 Ok Perché la mappa Aveva molte cose Che ricordavano il capitolo 1 Il capitolo 4 Non contatelo Perché quella mappa Non doveva esistere Invece la mappa del capitolo 5 Si vede Proprio da come è fatta Che è un remake Del capitolo 2 Ok Quindi Il remake del capitolo 1 E 2 Sono già stati fatti Ok Ora C'è questa teoria Che Adesso finita Sta stagione Finito il capitolo 5 Che è un remake Del capitolo 2 Andremo nella season G del capitolo 2 Per cambiare Anche delle cose Ovviamente Per cambiare il futuro Cambiando il futuro Potremmo Avere Non più Un capitolo 3 Come l'abbiamo visto Mozzato tra l'altro Ma potremmo avere Ricambiando un po' le cose Il capitolo 3 Ma quello che veramente Dovevamo avere Quindi un capitolo 3 Tutto diverso E quindi Il capitolo 6 Potrebbe essere Proprio un remake Al capitolo 3 Ecco perché Si pensa che Ci sono nei file di gioco Appunto Queste cose Che stanno Reggiungendo i file Reggiungendo le cose Del capitolo 3 Questa potrebbe essere Una motivazione Più che valida E io la appoggio Ok Non che torniamo Alla mappa del capitolo 3 Magari A novembre 2025 Faranno la season G del capitolo 3 Va bene Ok Però tra più di un anno Non penso che Stiano aggiungendo Adesso le cose Quindi Questa è la teoria Più valida Ovvero che Capitolo 1 Capitolo 2 Le mappe remake Le hanno già fatte Ora cosa facciamo Il capitolo 4 Non doveva esiste Il capitolo 3 È stato tagliato a metà Adesso che arriviamo Nel capitolo 6 Fanno la mappa Sì del capitolo 6 Ma remake Del capitolo 3 Quindi Potrebbe Ricentrare L'Araldo Ecco perché ci sono I file dell'Araldo E E potremmo avere Effettivamente Un vero capitolo E da lì potremmo Ripartire Perché avremo Il capitolo 3 Intero Che potrebbe Non durare più un anno Ma due anni Per poi Che si chiamerà Ovviamente capitolo 6 Per poi avere Il capitolo 7 Che dovrebbe essere In realtà capitolo 4 E continuare avanti Questa potrebbe essere Ragazzi La teoria Cosa ne pensate? Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Vi leggo tutti quanti Questa è una teoria Che Wow Perché Che a breve ragazzi Succederà questa cosa Se succederà Fatemi sapere anche se Voi avete una nuova Vostra teoria Mi raccomando Iscrivetevi al canale Della campanella Dove non vi piace Condividete il video Di vostri amici Noi ci vi chiamo In un prossimo video Bella Ciao a tutti i nostri amici Ciao a tutti i nostri amici